Nelle comunità cristiane non possono mancare parole e gesti per accogliere le persone con disabilità e vanno formati catechisti capaci di accompagnarle a crescere nella fede e a diventare da ultimo loro stesse catechisti, anche con la loro testimonianza. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando in Vaticano i partecipanti al convegno su catechesi e persone con disabilità organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. E' ancora troppo forte nella mentalità comune, ha denunciato il Papa, un atteggiamento di rifiuto di questa condizione, come se essa impedisse di essere felici. In realtà tutti conosciamo tante persone che con le loro fragilità, anche gravi, hanno trovato la strada di una vita ricca di significato, perché nessuno è invulnerabile. Tutti abbiamo bisogno di essere amati e inclusi nella comunità per essere felici e le persone più fragili ne sono la prova. Per questo la Chiesa non può essere afona o stonata nella promozione delle persone con disabilità, deve essere vicina alle famiglie che rischiano la solitudine e nelle comunità cristiane sono necessarie liturgie domenicali che sappiano includerle. La catechesi quindi deve scoprire forme adatte perché ogni persona con i suoi doni e le sue disabilità anche gravi possa incontrare Gesù. Impariamo a superare il disagio e la paura che a volte si possono provare nei confronti delle persone con disabilità. Impariamo a cercare e anche a inventare con intelligenza strumenti adeguati perché a nessuno manchi il sostegno della grazia. Formiamo prima di tutto con l'esempio catechisti sempre più capaci di accompagnare queste persone perché crescano nella fede e diano il loro apporto genuino e originale alla vita della Chiesa. Da ultimo, mi auguro che sempre più nella comunità le persone con disabilità possano essere loro stessi catechisti, anche con la loro testimonianza per trasmettere la fede in modo più efficace. Grazie. 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 Grazie.